Entra nel vivo la procedura di impeachment nei confronti di Donald Trump, al via alla Camera dei rappresentanti le audizioni pubbliche. William Taylor, ambasciatore americano a Kiev, e George Kent, sottosegretario del Dipartimento di Stato, i primi due testimoni a comparire davanti alla Commissione Intelligence. Se dovessimo scoprire che il Presidente degli Stati Uniti ha cercato di corrompere un alleato per fargli avviare delle indagini utili alla sua campagna elettorale, trattenendo milioni di dollari in aiuti umanitari e occultando degli atti ufficiali, non potremmo certo ignorarlo. Il riferimento del Presidente della Commissione Intelligence Adam Schiff è alle presunte pressioni esercitate da Trump sul Presidente ucraino Zelensky affinché la giustizia avviasse un'indagine per corruzione sul figlio di Joe Biden, Hunter, fino allo scorso aprile nel CDA di una società ucraina per l'estrazione del gas. Se al termine delle audizioni la Camera dovesse approvare la risoluzione di impeachment, la palla passerebbe al Senato, dove si terrebbe il processo vero e proprio.